Bentornati sul canale di questo blog, io sono il Gons e oggi sono qua per fare un unboxing particolare, un po' diverso dal solito, non sono film, ma riguarda comunque l'horror. Vediamo di cosa si tratta. Allora, mi è arrivato un pacchettino da Wizard of the Coast, la società che ha creato, ha inventato un gioco, un gioco di carte, che si chiama Magic. Qui c'è il pacco, vabbè l'ho già aperto, devo dire la verità. Dentro c'è la nuova espansione del gioco, che si chiama Innistrad Caccia di Mezzanotte, interamente dedicata all'horror. In questo universo ci sono lupi mannari, streghe, stregoni, zombie, insomma è un'ambientazione piuttosto creepy e per questa ragione ho deciso di fare l'unboxing di questa espansione qui sul canale, così anche per cambiare un po'. Faccio una premessa, non ho mai giocato a Magic, quindi questa per me è l'occasione per provare il gioco e vedere se anch'io entrerò nel tunnel, perché questo è un gioco che esiste da tantissimi anni e che ha appassionato generazioni su generazioni. Io non l'ho mai provato, sono stato un giocatore di Dungeons & Dragons da ragazzo, da giovane, non mi sono mai avvicinato ai giochi di carte fantasy come questo. Grazie all'espansione horror, chiaramente ora la curiosità c'è. Andiamo ad aprirlo, non sarà proprio un unboxing, ma sarà come vedrete dall'interno uno spacchettamento, perché Magic esce con queste bustine, queste sono appunto quelle dedicate a Innistrad Caccia di Mezzanotte, qua tutto è dedicato a Innistrad, non so bene come si fa un mazzo e come si gioca, però intanto inizio ad aprirlo e poi vi farò sapere insomma com'è il gioco. Allora qua c'è questo pacchettino pre-release, con questo inquietantissimo lupo dietro, poi ci sono un bel po' di bustine, poi vabbè c'è, fantastico. Ah guarda ce ne sono con diverse grafiche sopra, adesso le andremo, c'è questa, le andremo a spacchettare, perché ho già dato un'occhiata online, la particolarità di questo gioco è che ha delle illustrazioni sulle carte veramente magnifiche, così belle e così interessanti che sto pensando a un articolo legato a queste carte, che non vi spoilero, ma che potrà interessare agli amanti del cinema horror e agli amanti del gioco Magic, quindi continuate a seguirmi per leggere questo fantastico articolo che scriverò prestissimo. Intanto apro le bustine, intanto apro questo, intanto apro questo, poi spacchettiamo, so che spacchettare è una pratica abbastanza in voga qua in rete, io non ho mai spacchettato, ho fatto gli unboxing dei film, oh che carino, questo si apre così, bella, bella, oh c'è anche un dado, c'è anche un dado, ah 20 facce credo, sì un dado da 20, poi dentro ci sono altre, altri pacchetti, spero che ci siano le istruzioni, insomma il manuale di gioco, se no comunque si trova tutto online, perché il gioco esiste veramente da tanto, ci saranno migliaia di tutorial, poi dopo ci attrezzeremo per imparare a giocare. Questa busta è completamente riciclabile, interessante. Cosa c'è dentro? Promo, Innistrad, caccia di mezzanotte, qua c'è un codice, sappiate che Magic ha la versione Arena, che è la versione digitale gratuita del gioco, quindi potrete giocare sul computer, Mac o PC, a Magic e vedere insomma se vi piace. Io prediligo la carta, cioè, perché secondo me sono veramente fighe, adesso andiamo a vedere come sono le carte. Qua c'è anche un codice, uso questo codice per sbloccare Innistrad, ah ecco vedi, ok, col codice, non ve lo faccio vedere, no, ho perso il diventi, chissà se lo trovo, io ho il pavimento rosso, ho il pavimento rosso, il dado è rosso, non lo troverò mai. Allora intanto, allora apriamo velocemente le carte perché sono veramente tante, però sono curioso di vedere se troverò alcune illustrazioni che ho già visto online e che mi piacciono parecchio. Allora qua, no vabbè ma sono fighissime. Questa è spettacolare, ma ragazzi ma sono veramente fighe. Per fortuna sono in italiano, notte e giorno, perché praticamente la peculiarità di questa espansione è che proprio essendoci licantropi ci saranno delle carte che cambiano in base allo stato giorno-notte, i lupi mannari di giorno non sono lupi mannari ma sono umani, quindi i personaggi. Poi ci sono queste carte qua, giorno-notte, penso che siano carte memo insomma per segnarsi, boh non lo so. Comunque vedremo tutto con calma più avanti. Me le metto in tasca, sono tantissime. Non so come farò, dove le appoggio? Cosa vi devo dire ragazzi? Intanto spacchetto, spacchettiamo. Sono troppe. Dovrò, questo video lo taglierò e vi farò vedere solo i pezzi importanti perché veramente sono troppe. Bellissime. Sono davvero fighissime ragazzi. Adesso quando trovo delle carte più horror ve le faccio vedere. Vabbè qua c'è il classico lupo mannaro infogliatissimo. Spettri di ogni sorta. Spero che si veda bene. Dovevo girarlo in 4k così veniva meglio però. E ecco è arrivata una carta interessantissima che mi piace parecchio. È una scelta coraggiosa, fighissima. Che sono le carte di terra. Hanno deciso di stamparle in bianco e nero. Un po' per rifarsi ai vecchi film della Universal, film horror di quel genere lì. Quindi Dracula, Frankenstein. Ci sono altre carte che io ho già visto. Adesso magari mi capiteranno. Che sono in quello stile lì. Sicuramente mi capiteranno perché mi hanno mandato una quantità di pacchetti inaudita. Che bello. Spacchettare. L'orso infogliatissimo. Ma c'è un po' tutto l'immaginario horror. Quindi anche animali pericolosi. Creature insomma demoniache che sembrano. Io spero che si veda. Creature demoniache che sembrano diavoli insomma. Folclore. La strega con la maschera insomma che richiama un po' The Witch. Questi horror qua. Lo zombie. Bellissimo. Bellissimo lo zombie. Ragazzi lo zombie è meraviglioso. Qua siamo a citazioni altissime. Il grande Romero. Ecco qua un'altra carta terra. Sono veramente le mie preferite. Sono molto d'effetto. Sono molto belle. Sono proprio d'effetto. Mi piace un casino. Le illustrazioni sono meravigliose. Dopo me le guarderò con calma tutte. Apriamo quest'altro pacchetto. Busta per draft. Non so se cosa cambi. Lo scopriremo. Troppe. Ragazzi di Magic. Mi volete troppo bene. Mi avete manutenato nella carta di carta. Fantastico. Questo lupo. Incazzato. Uno zombie ancora. Non vedo l'ora di provarlo. Devo essere sincero. Una volta ero molto fan delle robe fantasy. Signore degli Anelli. Ho letto molti libri della saga di Dritz Lurden. Anche il mister ho letto diversi libri. Ho fatto una scorpacciata di fantasy e un po' mi è passato la mania per il fantasy. Anche se un po' mi piace sempre. Il fatto che questa espansione sia tema horror mi fa un po' tornare la voglia di giocare a questi giochi. La folla di persone incazzate. E questo è un classico. Sono molto belle anche al tatto. Very nice. E stiamo qua tutto il giorno ragazzi. È lunga. Allora. Uh che figli. Putri di contadini. Un po' tristanzuoli. Vedetemi voi se vi ricorda qualcosa questa immagine. Un altro magnifico zombie. Questo mi ricorda qualcosa ma non ve lo svelo. Vediamo se da soli ci arrivate. Allora ho finito con questo qua l'ultimo pacchettino che faceva parte della pre-release. E poi aprirò tutti gli altri pacchetti. Vampiri. Sono tutti a tema horror. Però volevo farvi vedere quelle che si vedono a me. Ah che bella questa. Qua sempre le carte terra. Sempre in bianco e nero. Ispirate appunto ai vecchi film in bianco e nero. Sono stupende. Sono stupende queste atmosfere che ci sono qua. Allora mi avevano detto sono fighissime dal vivo. Però veramente sono sorpreso. Apro gli ultimi pacchetti. Beh penso che con tutti questi pacchetti potrò quantomeno giocare in due persone. Credo. Oh che bella. Queste sono fatte in un altro modo. Non so bene a cosa servono però. Di sicuro non sono molto frequenti. Faccio vedere finalmente. Cioè finalmente magari me ne è già capitata qualcuna. Ma questi sono i famosi personaggi che hanno insomma doppia faccia. Giorno e notte si trasformano in lupo. Meraviglia. Anche questa qua. Si ruota. Il personaggio si trasforma in mannaro. Ah questo pacchetto è un po' diverso. Collector booster. Collector booster. Vediamo cosa c'è. Pregio. Subito mi capita un bello zombie. Tutto sberlucicante. Anche questo double face. Queste sono tutte più belle esteticamente. Forse è un pacchetto particolare. Un altro zombie un po' body horror. Un'altra carta ambientazione terra. Bellissima. Queste sono veramente stupende. Stupende. C'è anche qualche ambientazione. Qualche mostro. Che richiama tantissimo. Che richiama tantissimo Lovecraft. Insomma. Tulu. Queste divinità mostruose. Allora ragazzi. Se questo video fantastico arriva a un miliardo di like. E un 400 mila milioni di views. Faccio un altro video con mio figlio. Che apre i pacchetti. Perché lui voleva assolutamente aprire questi benedetti pacchetti. Ma gli ho detto. Giorno. Non posso aprirli. Perché devo fare un video per il canale. Se questo video arriverà a 100 milioni di views. Se arriverà a 100 milioni di views. Farò un video con mio figlio. Dove apriamo altri pacchetti. Sono sicuro che. Sono sicuro. Che se questo video arriva a 100 milioni di views. Mi manderanno altri pacchetti. Sono abbastanza sicuro di questo. Un bello psicopatico. Ci voleva. Esorcismi. Cimiteri zombie. Altri zombie. Ululati. Ma no. Fighissimo. Sentire proprio al tatto le carte. È proprio bello. Un'altra ambientazione. Terra. Bellissima. E poi ho visto un'altra molto bella. Che è questa. Un po' più rasserenante. Come paesaggio. Questo tramonto. O tramonto. Penso che sia un tramonto. Una bella palude. Una bella palude. Ci vuole. Per fare un po' di atmosfera horror. Anche questa è notevole. Vediamo se a qualcuno ricorda qualcosa. A me sì. Ma ve lo dirò più avanti. Cavalli spettri. Stupendi. Stupendo questo immaginario qua. Dell'horror. Un po' all'antica. Anche no. Non so come descriverlo. Ma c'è sopra una specie di effetto. Sberluccicante. Su alcune carte. Che le rende veramente. Le rende veramente gustosette. Le apro tutte. Le apro tutte. Me le metto qua. Le apro tutte. E poi. Le vedo tutte insieme. Perché non so. Sto facendo. Ok. Mi sono aperto. Mi sono aperto gli ultimi pacchetti. Tutti insieme. Perché se no non ce la facevo più. Ultime carte. Vediamo. Anche qua c'è. Questa carta qua. Con l'illustrazione. L'isola. Queste ve le devo far vedere assolutamente. Perché sono. Il top. Questa è un po' congiuriana. Secondo me. Come carta. Un po' a richiare il mondo The Conjuring. Oh che bella questa. Questa. Questa l'avevo vista online. È fighissima. Guardate che roba. Sto mostro. Cos'è? Un uccello zombie. È un po'. Un po' strambo. No. Tanta roba. E anche qua c'è. Qualcosa. Secondo me ricorda. Un film. Poteva mancare il buon vecchio Jack the Hunter. La zucca di Halloween. Certo che no. E qui abbiamo un personaggio che ricorda molto Swan Fink. Insomma questo mostro paludoso con tutte le vegetali addosso. Mostro fatto di vegetali. Altri personaggi che si trasformano. E diventano lupazzi. Mannare. Erano veramente tantissimi. Eccole qua. Questo è il gioco. Questo è il gioco. Tutto da scoprire per me. Perché sono. Proprio. Completamente a digiuno delle regole. So vagamente come funziona. Ci sono. Insomma attacchi. Magie. Servono. Diciamo delle carte energia. Chiamiamole. Per fare gli attacchi. Insomma. Queste tipo di dinamiche. Fanno parte un po' di quello che sono tutti i giochi di oggi. Di carte. Ma in realtà nascono da magic. Quindi. Questo è quello che so io. Quindi questo è il capostipite di questo tipo di giochi. Ecco qua tutte le carte. Insomma. Non sono pochissime. Sono veramente belle. Adesso me le guarderò con calma. Mi guarderò le illustrazioni. Magari. Ecco con gli occhiali giusti. Non con quelli da sole. Insomma. Mi studierò le illustrazioni perché sono veramente molto belle. Mettete un like se il video vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. E iscrivetevi al canale.